Buongiorno, dopo le vostre numerosissime richieste, ecco qui il video parlato del nuovo bilocale in affitto a Marina di Altidona. Bilocale di 45 metri quadrati, composto da entrata, soggiorno, cucina, una camera metrimoniale, un bagno e due terrazzi, arredato solo con cucina completa di elettrodomestici a Marina di Altidona. Ecco l'esterno, trattasi di una palazzina di nuova costruzione sul contesto referenziato. Entriamo, porta blindata, cucina, con forno. Questa è la zona dell'entrata, composta da cucina, soggiorno e in unico ambiente. Si ricorda che l'appartamento verrà allocato solamente con la cucina. Abbiamo un terrazzo che affaccia nella zona giorno. Proseguiamo, ci reghiamo nella zona notte. A sinistra abbiamo il bagno. Un bel bagno di design. L'avabo sulla sinistra, sanitari nuovi, piccola finestra, box doccia. Disimpegno, che divide la zona giorno con la zona notte, una camera matrimoniale. Con porta scorrevole, molto comoda per guadagnare spazio. Una camera matrimoniale. Quindi questo appartamento è di 45 metri quadrati. Ideale per singolo massimo coppie. E ha due terrazzi. Il secondo terrazzo si affaccia nella zona notte, nella camera matrimoniale. Corte di servitù privata nella palazzina. Numerosi posti auto. Si ricorda che c'è la possibilità, volendo, di affittare anche un garage. Con prezzo a parte. Il prezzo dell'appartamento, già trattato, è di 450 euro mensili. Affittasi con contratti a lungo termine. Si ricorda che l'affitto è gestito in esclusiva dall'Agenzia Immobiliare. Mandare un messaggio al 339-8286-5111, scusatemi, con le vostre referenze. Vi manderò l'ubicazione esterna. In caso di interesse potrete confermare un appuntamento in loco. Facciamo un altro giro. Quindi sono nel terrazzo che affaccia nella camera, camera matrimoniale, una sola camera matrimoniale. Siamo di nuovo nel disimpegno. Un bagno, anche il bagno provvisto di porta scorrevole. Doccia a destra. Lavabo, sanitari. Cucina. L'appartamento verrà affittato solo con i mobili presenti, cioè la cucina. Porta blindata. E altro terrazzo nella zona giorno. Euro 450 euro mensili. Contratto regolare a lungo termine. Richieste referenze e busta paga. Ingresso indipendente. Luci a led nella scala. Si ricorda che questa palazzina è a conduzione familiare e abitata solamente da persone referenziate. Contesto molto tranquillo e riservato. Palazzina che offre anche una corte di servitù privata, oltre a numerosi posti autodisponibili. Siamo nella zona Valdasso di Marina d'Altidona.